234 nuovi casi in Abruzzo, il 7% dei 3.299 test processati nelle ultime 24 ore. 114 di questi si riferiscono a Focolai, già noti. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 2 e 90 anni. 98 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 47 a quella di Chieti, 35 a quella di Pescara e 62 a quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 503. Si tratta di una 85enne e di una 79enne della provincia di Teramo. Attualmente in Abruzzo vi sono 3.529 positivi accertati, più 153 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. Di questi, 228 più 20 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 16 sono ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 3.285 più 133 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Uno dei nuovi casi di positività al Covid riguarda un operaio della Sevel. Il lavoratore, impiegato nel reparto verniciatura 2 e sigillatura, è il secondo ad ammalarsi in pochi giorni nella fabbrica del Ducato. Precedentemente, infatti, era risultato positivo un lavoratore del montaggio. E mentre governi e governatori proseguono la loro cruciata contro la cosiddetta Amovida, studiando coprifuoco e normative contro lo svago e puntando il dito contro i più giovani, nessuno tocchi la produzione, specialmente quella dei grandi colossi. Le piccole attività abbassano le saracinesche, mentre sono migliaia gli abruzzesi che ogni giorno affollano i mezzi pubblici, costretti a recarsi nelle fabbriche, esponendosi anche a rischi notevoli in virtù del profitto altrui e della sacralità del lavoro.